Questo si chiama Franco CFA, è la moleta coloniale che la Francia stampa per 14 nazioni africane, alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. Il cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un tunicolo per tirare fuori, finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa. La soluzione è liberare l'Africa da centri europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno.